Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo e l'uscita del feretro di Luana d'Orazio nella chiesa di Spedalino d'Agliana dove si sono svolti i funerali della giovane, operaia e mamma di un bambino di 5 anni, morta il 3 maggio scorso nell'azienda Tessile di Ostia di Montemurlo. La cerimonia funebre è stata ufficiata dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Dobbiamo chiedere perdono a Luana, ai morti di lavoro e a Dio, ha detto Monsignor Tardelli durante l'omelia. Luana, ha aggiunto, è il simbolo di tutti i corpi straziati sui luoghi di lavoro. Ci dobbiamo lasciare inquietare dallo sguardo dei morti sul lavoro. Servono scelte coraggiose. In Toscana oggi era stato proclamato il lutto regionale. Nella chiesa aglianese c'erano i familiari, il presidente della Toscana Eugenio Gianni, i titolari della ditta dove Luana ha perso la vita, i suoi colleghi e anche l'attrice Monica Guerritore, colpita, come tutta l'Italia, da questa storia su cui è in corso un'inchiesta della procura. Luana avrebbe compiuto 23 anni a giugno. Voleva fare l'attrice, ma la sua priorità era assicurare un presente e un futuro a suo figlio. Per lei sono stati liberati in cielo dei palloncini bianchi. La salma è stata tumulata nel vicino cimitero.